Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TVCity. In apertura le polemiche sulla scuola in campagna si ipotizza un ritorno alla DAD totale, mentre aumentano giorno dopo giorno i casi nelle classi. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha deciso la chiusura delle scuole e di altre attività. Lo abbiamo ascoltato in collegamento con la nostra emittente. Ai microfoni di TVCity questa mattina anche la dirigente del liceo classico di Torre del Greco, Letizia Spagnuolo, che rassicura alunni e genitori sulle misure di sicurezza prese in classe. In chiusura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato lotti di profumi contraffatti. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ancora polemiche sul ritorno a scuola. L'incremento dei contagi in campagna solleva di nuovo un polverone sul rientro fra i banchi, con genitori divisi fra chi vuole il ritorno alla didattica a distanza per la sicurezza degli studenti e delle famiglie e chi invece evidenza i pochi rischi collegati alla presenza a scuola rispetto alle enormi mancanze delle lezioni virtuali. Di fatto i positivi in aula aumentano giorno dopo giorno. Alcuni sindaci del Vesuviano hanno iniziato a pubblicare i dati relativi ai contagi all'interno degli istituti, fra docenti e studenti, per poter monitorare la situazione e reagire più velocemente. A Portici sono complessivamente 50 i contagiati negli istituti comprensivi e 6 nelle scuole private. Per Ercolano e San Giorgio i sindaci hanno chiesto all'ASL dati più specifici per capire i provvedimenti da adottare. Il sindaco Bonaiuto ha annunciato l'imminente decisione di chiudere tutte le scuole cittadine in attesa di un miglioramento dei dati. Dubbi anche a Torre del Greco, dove ormai si registrano positivi in ogni istituto, frente alle classi messe in quarantena e paura dei cittadini. Al momento però nulla è stato comunicato all'amministrazione comunale. Corrono già ai ripari invece i sindaci di Torre Annunziata e Castellammare, che hanno già disposto con ordinanza nella giornata e ieri la sospensione della didattica in presenza almeno fino alla metà del mese di febbraio. In entrambi i comuni la situazione dei contagi è già critica, con picchi altissimi nelle ultime settimane. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha più volte ribadito che la didattica in presenza debba essere sospesa in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, visto l'incremento dei contagi. Ieri i direttori generali delle ASL gli hanno prospettato i dati dei contagi fra i banchi. Tuttavia il governatore sembra avere le mani legate dopo le sentenze del TAR che disponevano l'apertura ai plessi scolastici e alle elezioni in presenza. Un qualunque atto della regione sarebbe annullabile in quanto in contrasto con la sentenza del Tribunale Amministrativo. L'intenzione di De Luca sarebbe quindi quella di inviare una raccomandazione ai sindaci e ai prefetti della Campania per attuare la chiusura in presenza e demandare ogni ordine di scuola alla DAD. Se non ci fosse esecuzione positiva, la regione agirebbe da sola con un'ordinanza, magari riuscendo a svincolarsi alla decisione del TAR in base ai nuovi preoccupanti dati sull'emergenza sanitaria. Quel che è certo è che la DAD caratterizzerà ancora le prossime settimane, se non addirittura mesi. Urge inserire anche il mondo scuola nel piano vaccini per garantire un ritorno definitivo e sicuro. Infatti il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, ritenendo necessario anche l'aumento dell'uso dei tamponi rapidi tra gli studenti e quanto riferiscono i gruppi parlamentari che il premier incaricato sta incontrando. Draghi avrebbe anche affermato che il futuro governo dovrà rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso per recuperare i numerosi giorni persi. Lungo approfondimento dei tv siti sull'emergenza sanitaria, in collegamento con il sindaco di Torreannunziata, Vincenzo Ascione. Per contrastare l'impegnata ai contagi, il primo cittadino ha chiuso scuole ed altre attività. Io ho preso un provvedimento, che è quello di chiudere tutte le scuole di ogni ordine grado, perché in questo momento in cui il numero dei positivi è così alto, qualsiasi punto di assembramento delle persone può essere causa del contagio. Quindi ho chiuso tutte quelle che sono le attività pubbliche o sul suolo pubblico. Cioè nel senso che per quanto riguarda le scuole, tutte le scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, per quanto riguarda le strade, ho chiuso le strade dove ci sono maggiori assembramenti, per quanto riguarda il mercato quotidiano e settimanale, in questo momento non si può e non si deve fare, perché ripeto, anche quelle attività alla fine è un ulteriore punto e momento di assembramento. Quindi questa è la mia idea. È chiaro che probabilmente siamo in ritardo, nel senso che ormai il contagio sta galoppando e probabilmente queste misure restrittive non produrranno gli effetti che speriamo. Però, ripeto, meglio tardi che mai, io credo e spero che la Regione Campania possa anche intervenire con modalità anche più restrittive, ma per quanto mi riguarda non possono essere misure restrittive che riguardano solo questa città, ma dovrebbe essere l'intero comprensorio e che altrimenti fare delle misure restrittive nella mia città e poi avere la possibilità di spostarsi o a Castellammare o a Terro del Greco non risolve il problema. È impossibile controllare tutti ed ogni angolo della città, conferma il sindaco. Per farlo servirebbero i militari come durante il primo lockdown. L'unica soluzione resta quindi il buon senso dei cittadini. Confido molto nella capacità dei miei concittadini di cominciare a prendere atto che la situazione è pericolosa e che tutti insieme la dobbiamo affrontare rispettando le regole, cercando di evitare qualsiasi promiscuità in questo momento. Quindi di non andare a trovare i propri congiunti, di non andare a trovare i propri familiari che abitano in altre case, di stare ognuno nella propria casa e di uscire solo per le necessità indispensabili. Facciamo come se fossimo in lockdown. Questo è l'invito che faccio ai miei concittadini. Infiamma la polemica sul ritorno a scuola, fra chi vuole la DAD, chi vuole il ritorno fra i banchi e chi è preoccupato in generale per l'aumento dei contagi. Come è andato il rientro fra i banchi? Quali sono le criticità? Il rientro tra i banchi è stato un rientro con diverse criticità. In primis la connessione. La fibra non ha retto la connessione contemporaneamente con tutte le classi, ma questa è una problematica che accomuna un po' tutte le scuole del territorio, ma credo proprio a livello nazionale. Le criticità sono anche il rapporto all'aumento dei contagi. A livello scolastico qual è il dato dei positivi? Ce ne sono stati? Sessi quanti? C'è stato un unico caso di un'alunna di quinta che è risultata positiva e c'è stato un contatto nell'ambito delle 48 ore in classe e quindi abbiamo messo, così come prevede il protocollo, la classe in quarantena, in isolamento fiduciario, con i docenti che nell'ultima 48 ore hanno avuto contatto con l'alunna, il famoso contatto stretto detto in termini del protocollo. Ci sono stati riferiti di alunni che sono risultati positivi al tampone, ma questi alunni in questo periodo non hanno proprio frequentato la scuola o meglio, sono trascorsi diversi giorni, quindi oltre le 48 ore. Pertanto dal protocollo non è previsto nessuna messa in quarantena né della classe né dei docenti di questi alunni. Ovviamente c'è preoccupazione fra le famiglie per questo ritorno in classe. Quali sono le modalità con cui possono tutelarsi? Possono scegliere la DAD invece della didattica in presenza? La normativa prevede che per gli alunni fragili, cosiddetti fragili, o conviventi con familiari fragili, possono seguire le lezioni in didattica a distanza, ovviamente con l'esibizione di un certificato medico. La scelta di mandare a tutti gli alunni, tutte le classi in DAD che non appartengono a questa categoria fragili non la può fare il dirigente scolastico. Invece il singolo alunno, dicevamo, può richiederlo, se è alunno fragile o convivente con persone fragili, quali sono le modalità per l'istituto? Noi abbiamo pubblicato una circolare, proprio i primi giorni di febbraio, con un'allegata modulistica. Non abbiamo dato una scadenza specifica perché sappiamo che si possono verificare anche in corso d'opera delle situazioni, poiché possono avvalersi la didattica a distanza anche gli alunni che sono in quarantena o in isolamento fiduciario e quindi con una certificazione medica possono in qualunque momento presentare la richiesta. Quali sono le misure che si stanno adottando nel senso di sanificazioni, controlli, lavaggio delle mani e misurazione della temperatura? All'ingresso, come ha potuto notare anche lei, ci sono quattro termoscanner che misurano la temperatura, perché sono quattro gli ingressi differenziati per questo istituto. I ragazzi rispettano benissimo tutto il protocollo per la sicurezza che abbiamo attivato all'interno della scuola e ovviamente di tutte le scuole. La sanificazione ordinaria, quella effettuata dai collaboratori scolastici, viene fatta così come prevede il protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, nel cambio dell'ora si sanifica la postazione ovviamente del docente, perché è quello che cambia di ora in ora, e poi viene fatta a conclusione della giornata, così come prevede il protocollo. Tra l'altro l'utilizzo di detergente ad alta azione battericida dovrebbe rassenerare, rassicurare che ci sono tutti i requisiti per una scuola sicura. Un appello ai genitori, ai genitori preoccupati e agli studenti. La scuola è un luogo sicuro, sicurissimo. Il problema che si può verificare è dal tratto casa-scuola. Questo tratto deve essere fatto rispettando anche in questo tragitto tutte le misure di sicurezza. È naturale che i ragazzi fuori dalla scuola si incontrano e quel distanziamento fisico che rispettano all'interno della scuola potrebbero non rispettarlo. E questo comporta appunto il pericolo del contagio. Qui i ragazzi fin quando sono nella scuola sono sempre al sicuro perché posso garantire a tutti che i ragazzi e i docenti rispettano tutte le norme previste dal protocollo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a merito di Napoli due opifici abusivi utilizzati per la produzione di profumi di noti marchi nazionali e internazionali contraffatti. L'operazione è stata portata a termine dai baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli che hanno individuato dei box auto allestiti come veri e propri laboratori dove venivano prodotti profumi senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario. Sequestrati 3.100 flaconi di profumo Dior, Armani, Barberry, Hugo Boss, Creed, privi dei requisiti minimi di sicurezza e 115.000 etichette. I profumi erano confezionati così accuratamente da poter trarre in inganno anche i consumatori più attenti, con rilevanti rischi di allergie e di danni per la pelle, data la totale inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e la dubbia provenienza delle essenze. Denunciati per ricettazione, contraffazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti commerciali, tre soggetti, uno di Napoli e due di Merito di Napoli, che con l'approssimarsi di San Valentino avrebbero potuto conseguire profitti sul mercato di oltre 100.000 euro. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Grazie a tutti.